Li vediamo in fila lungo i binari, a bordo dei treni trasportati da una parte all'altra del continente. Pronti a tutto i migranti, nulla li ferma e con coraggio e speranza sfidano barriere e polizia. Di fronte ai flussi sempre più massicci degli ultimi mesi, l'assessorato ha le pari opportunità e il forum dell'immigrazione hanno organizzato un'iniziativa denominata Donne Migranti, Cultura, Accoglienza e Integrazione. Una due giorni di dibattiti arte che avrà inizio con un convegno in programma per sabato pomeriggio dalle 15.30 nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna e terminerà con uno spettacolo lunedì alle ore 21 dal titolo Mare e Madre ad ingresso libero. Attraverso diversi linguaggi la cantante Frida Nere racconterà la tematica della migrazione dal punto di vista di chi si muove e di chi accoglie. Mare e Madre è un racconto allegorico, simbolico sul mare che ha tante sfaccettature come simbolo appunto. Sarà trattato attraverso diversi linguaggi, le immagini, la prosa, la poesia, la danza, il movimento danza, la musica e soprattutto la compresenza di volti e persone molto diverse fra loro. Quale messaggio volete lanciare attraverso questo spettacolo? Il messaggio è complesso come la figura del mare, ossia questo mare è simbolo di generazione madre, è simbolo di viaggio, di migrazione che è una cosa antica quanto l'uomo, è una caratteristica dell'essere umano ed è anche una sorta di viaggio psicologico, è un viaggio esistenziale dove non si sa dove approdare e dove si arriva, che non è mai dove si era cercato di arrivare probabilmente. Quindi è anche una sorta di viaggio interiore di noi stessi.